Scontro acceso tra Giorgia Meloni e il segretario del Partito Democratico di Adria. Si sono praticamente scontrati, come succede adesso, sui social. Giovanni Vurchio infatti ha deciso di commentare un post sui social della leader di Fratelli d'Italia, criticando le parole della Meloni usate durante una diretta Facebook. Per rispondere alle accuse dei 5 stelle, ma nel commento lasciato sui social Vurchio non usa giri di parole e attacca la Meloni direttamente. Dice il mio commento è vero e sincero, un politico inutile che vive sulla scia delle proposte politiche altrui, di suo zero assoluto. Quindi gli sta dando della persona politicamente inutile. Non contento di questo insulto dice, ma fai la casalinga per piacere. Quindi ha aggiunto la risposta della Meloni con tanto di screenshot del commento, è stata dura. Dice, la Meloni risponde, Ecco a voi il famoso rispetto delle donne della sinistra, che poi usano casalinga come se fosse un'offesa. Ma quanto sono tristi e ipocriti? Non si sa come l'abbia presa il Vurchio, che probabilmente adesso risponderà di nuovo. Però naturalmente bisogna attendere ora la risposta del Piddino, che quando insulta di democratico ha ben poco.